Stefano, mi raccontavi prima di iniziare la trasmissione di un effetto terapeutico di una tua canzone. Vuoi raccontare questo fatto? Ci sono degli aneddoti in questi vent'anni sorprendenti, che vanno un po' nella direzione che dicevo prima. Ci sono alcuni episodi interessanti, questo in particolare è legato a una canzone, Leone il trombone, che fa parte di un cd che si chiama La Grande Orchestra, che non è una canzone tra l'altro con un grande significato, è all'interno di un percorso che La Grande Orchestra fa. Mi raccontava, questo è un episodio che è accaduto a Gianluca Foschi, il tastierista, non a me, una mamma lo ha fermato e lo ha ringraziato perché gli ha raccontato appunto la sua esperienza. Questa mamma aveva un figlio ammalato di leucemia, che poi è morto, e questo figlio venne ricoverato in coma all'ospedale, proprio a causa degli effetti della malattia. I dottori dissero alla mamma che non sarebbe probabilmente più tornato. La mamma, tra i vari tentativi che fece appunto per risvegliarlo, fece ascoltare al figlio che aveva in sala di rianimazione la canzone Leone il trombone, perché era una canzone che piaceva tantissimo al figlio quando era piccolo. Sta di fatto che la mamma ha raccontato che il figlio si è risvegliato e lo ha riportato a casa e per un altro anno è vissuto. Lei diceva, io vi ringrazio perché gli avete regalato un altro anno di vita. Tu capisci che non gliel'abbiamo regalato noi, capisci che una cosa del genere ti fa comprendere ancora di più che tu sei strumento nelle mani di un altro. Io ho scritto una canzone che non aveva nemmeno un particolare significato, questa canzone ha avuto questo effetto qui. C'è un altro aneddoto, scusa se mi permetto, rispetto a questa canzone molto bello. Quest'estate io ho incontrato una famiglia che mi voleva conoscere proprio perché avevo scritto Leone il trombone, ancora questa canzone. E poi ti chiedo perché Leone il trombone, solito Leone il re, il re leone. Ma no, è perché il trombone ha un suono particolare che potrebbe essere associato a quello... A una luce baritonale. A un gito di un leone. Ma sta di fatto che questa famiglia, insomma, mi voleva conoscere e ringraziare a un bambino, un piccolo di 4 anni non vedente, e io colpito da tale gratitudine, ho detto loro che sarei andato a fare uno spettacolo solo per il bambino. Infatti la settimana successiva sono andato con la mia chitarra, ho venuto anche mia moglie, e praticamente ho cantato tutte le canzoni della grande orchestra, compreso Leone il trombone, a questo bambino che era impazzito dalla gioia. Quello è stato uno degli spettacoli più belli che... Uno spettacolo privato in questo caso. Uno spettacolo a casa di questo bambino. Questo per dire, insomma, quali tipi di esperienze abbiamo fatto in questi vent'anni. Qual è il testo che ami di più? Allora, io il testo che amo di più probabilmente è l'Orango Tango Marango, è una delle canzoni più conosciute, è la seconda canzone che ho scritto, io ho iniziato a scrivere nel 1994. Come hai iniziato a scrivere canzoni? E perché? Ah beh, io ho iniziato a scrivere... Dopo ci parli dell'Orango Tango. Ho iniziato a scrivere canzoni nel 1994 quando facevo l'insegnante di lettere nella scuola media del Sacro Cuore. Ho insegnato per due anni e sono stati due anni molto belli, sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista educativo, per gli incontri fatti sia con i miei colleghi che con i miei ragazzi. E le prime due canzoni che ho scritto, la storia di Cazù e l'Orango Tango Marango, parlano dei ragazzi e parlano dei miei colleghi, perché l'Orango Tango Marango, alcuni lo conoscono, è il professor Marangoni, che è la professore di educazione tecnica. Perché è una modalità che ho io spesso di mettere nelle mie canzoni le persone che incontro, attraverso i loro soprannomi, attraverso certe modalità che hanno. Perché sono affezionato all'Orango Tango Marango? Io la considero un pochino il mio manifesto educativo. E tutto sommato ho anticipato quello che avrei fatto nella vita, perché poi ho smesso di fare l'insegnante e ho fatto l'educatore. L'Orango Tango Marango racconta la storia di questo Orango, che fa parte della compagnia di Noè, poi decide di andarsene via, di lasciare questa compagnia e solo alla fine, quando si accorge che in quella compagnia stava bene, lui decide di ritornare, perché aveva lasciato un filo sottile. Aveva sentito la nostalgia? Sì, aveva sentito la nostalgia, soprattutto aveva fatto... Ma la storia del figlio al prodigo? È molto simile alla storia del figlio al prodigo, ma soprattutto nasceva da una domanda che mi facevo a livello educativo. Io guardavo i miei ragazzi, i ragazzi delle medie, e mi chiedevo quale sarebbe stato il loro destino. Soprattutto ero molto preoccupato, pensando che molti di loro se ne sarebbero andati. E allora scrisi questa canzone, perché il significato educativo vero è proprio questo. La cosa importante, soprattutto quando sei con dei ragazzi, è fargli sperimentare delle cose belle. Fargli sperimentare un'accoglienza, un abbraccio, perché poi se ne possono anche andare, possono anche lasciare le esperienze che hanno fatto. Ma se hanno vissuto davvero quella bellezza, sanno che in quel luogo lì possono ritornare. Allora cos'è la bellezza? Cos'è la bellezza? È un dato oggettivo o è un dato soggettivo? Cos'è la bellezza? Io credo realmente... O la bellezza di queste esperienze? No, io credo che... Provo a pensare al mio lavoro. Cioè, prima dicevo che scrivere canzoni... Per scrivere canzoni bisogna partire dall'io. Anche il mio lavoro parte, diciamo così, dall'io. Cioè, da cosa sperimento io? Io la bellezza l'ho sperimentata in tutta una serie di incontri che mi hanno fatto essere quello che sono. L'ho sperimentata in un abbraccio, nell'abbraccio innanzitutto dei miei genitori, nell'abbraccio dell'incontro con il movimento di comunione e liberazione. Cosa dicono i ragazzi che hai a scuola, ai quali fai da educatore, che hanno un educatore, una guida come autore di canzoni? Ma guarda... Cosa dicono? Adesso io non insegno più, quindi cosa dicono i miei ragazzi in comunità? In comunità, cosa dicono? Ma loro colgono un aspetto di me... Mi ha colpito una cosa che disse un ragazzo di comunità, che mi disse, si vede che tu fai il musicista, o comunque che tu hai a che fare con la musica, perché sai sempre scegliere il tempo giusto. Ed è bella questa cosa qui, perché per fare l'educatore spesso bisogna scegliere anche i tempi giusti, soprattutto con ragazzi come quelli che ho io, che alcuni sono disabili, ma altri sono ragazzi che sono, tra virgolette, insomma, sono ragazzi normali, ma che vivono situazioni borderline, spesso insomma sono ragazzi anche aggressivi, o comunque sono ragazzi che... istintivi, ecco, diciamo così. È per questo che è importante scegliere, per certi versi, i tempi giusti. Ma il musicista che aiuta l'educatore o l'educatore che aiuta il musicista? Ma io credo che tutto sommato ci sia una sorta di reciprocità, cioè il denominatore comune innanzitutto è sempre tu come stai di fronte alle cose, tu come le vivi, la serietà con la quale innanzitutto ti alzi la mattina e guardi te stesso, perché fare un lavoro come quello che faccio io significa che comunque tu devi introdurre i ragazzi nella realtà, educarli, no? Ma per introdurli nella realtà tu devi avere un'ipotesi educativa della vita. È un po' quello che dicevo prima, cos'è quindi la bellezza? Se io sono abbracciato e sono stato abbracciato, sono stato accolto, nello stesso tempo è chiaro che poi riesco ad abbracciare e ad accogliere. E in questo i ragazzi percepiscono la prima bellezza. Lo sentono, lo avvertono. Sentono che quel rapporto lì diventa un luogo dove, che è un luogo che ci può essere per tutta la vita, ma può anche non esserci per tutta la vita, la speranza per loro è che quel luogo lì c'è per cui lì possono ritornare. Ma Stefano Del Teste è un cantastore, un menestrello, che cos'è? No, no, io, ripeto, preferisco pensare che sono uno che ha avuto una grande fortuna nella vita per tutta una serie di incontri che ho fatto, a cominciare dal rapporto, ripeto, con la mia moglie. Non è secondario questa cosa, io a casa ci sto poco, perché tra il lavoro che faccio e gli spettacoli, che adesso ultimamente mi impegnano di meno, però sono spesso fuori casa, quindi avere una moglie che tutto sommato ti... Che condivide la stessa esperienza. Che condivide la stessa esperienza. Anche se non fa parte della band. Esatto, esatto. Ti aiuta. E, ripeto, quindi, sono una comune, normale persona che ha avuto questa fortuna di avere probabilmente dei talenti e di averli messi a disposizione, perché la cosa interessante, importante e che interessa a me è proprio quella di essere al servizio, cioè di mettere a disposizione quello che ha avuto, perché so per certo che l'ha avuto, che mi è stato donato, insomma. Ma che cosa c'entrano con la tua esperienza, soprattutto di musicista, di educatore, di padre in famiglia, Paola Piracini e Emanuela Camagli? Paola Piracini e Emanuela Camagli sono state due persone molto importanti in quello che è il mio percorso di vita e la mia strada. Ricordiamo brevemente anche chi sono. Sì, Paola Piracini è stata la preside della scuola dove io ho lavorato dal 94 al 96, un'insegnante storica del liceo classico, un personaggio quindi comunque pubblico e responsabile del movimento di Comunione Liberazione fino alla sua morte. Paola Piracini è stata molto importante proprio per il mio percorso educativo e formativo. io a lei ho dedicato una canzone, Il Tempo Corre, dove c'è un passaggio di tutta una serie di cose che lei ci diceva. Paola mi ha insegnato nella vita a partire da ciò che c'è, cioè di fronte alle mie lamentele, di fronte spesso alle mie pretese, rispetto agli altri, lei mi fermava e mi diceva parti da ciò che c'è, cioè parti da quello che ti è dato, cerca quello che non c'è. Non bisogna avere paura della realtà, bisogna guardarla in faccia. Esatto, esatto, e questa è una delle cose che Paola mi ha insegnato. Manuela Camagni, che era a servizio di Papa Benedetto. Manuela Camagni era a servizio di Papa Benedetto, è stata la mia babysitter. Manuela Camagni è di San Piero in bagno come me, è una persona di famiglia, per cui io quando ero bambino, cioè lei era la mia babysitter, è stata poi la mia responsabile nel movimento dei giovani lavoratori, e anche a lei ho dedicato una canzone, Francesco, che si chiama La canzone dei cinque sensi, dove appunto riporto un pochino quella che è stata la sua vita, che può essere, diciamo così, semplificata in quello che lei diceva. Lei spesso aveva questa sorta di slogan, io sono tu, con la T maiuscola, tu che mi fai, io sono perché c'è un altro che mi fa. In realtà quello non era uno slogan, lei lo ha vissuto veramente nella sua vita, dalla missione in Tunisia fino appunto al servizio a Papa Benedetto. Io gli ho voluto rendere omaggio appunto con questa canzone. Tra l'altro... Devo stare attento a parlare con te perché ci fai sopra una canzone. Sì, no, esatto, potrebbe anche accadere, non è escluso. Bene, ci avviamo verso la conclusione, Stefano, ma che c'entra l'andare in bicicletta con tutta questa storia? Il nostro amico Pino che c'entra, il ciclista che è dentro di te, perché oltre all'educatore e al musicista è la passione per la bicicletta, conosci tutte le strade del nostro splendido Pennino. Io posso dire che abbiamo e la condividiamo insieme, ma guarda, ti ringrazio per la domanda, perché non è diverso scrivere canzoni dell'andare in bicicletta. Alla fine io ho iniziato a scrivere canzoni per comunicare la mia esperienza, ma anche per incontrare. La cosa che mi interessa dell'andare in bicicletta è questa, al di là della bellezza dei paesaggi, molti dei quali me li hai fatti conoscere te, perché vieni anche te in bici ogni tanto con noi. La cosa importante è proprio l'aspetto umano dell'andare in bicicletta. Io vado in bicicletta con 5-6 amici e più che fare le salite, la cosa che mi interessa, più che far chilometri, immaginare chilometri, mi interessa proprio durante il percorso parlare di noi. Viene spesso messo a tema nel nostro andare in bici proprio l'io, cioè la nostra posizione, il nostro giudizio sulla realtà. Io consento, l'estate scorsa, più di una volta siamo andati in bici insieme e rimanevo affascinato per esempio dai racconti che mi facevi te, insomma sulla giornata mondiale della gioventù in Polonia, ma anche i racconti degli altri ciclisti. Cioè l'aspetto umano viene sempre prima un po' di tutto, anche dall'aspetto sportivo, dall'aspetto ciclistico. Che significa guardarsi attorno, in conclusione? La capacità di stupirsi serve per un musicista, per un autore, un educatore? Sì, sì, no, la capacità di stupirsi serve, ripeto, è un po' come l'educare. Riesci a educare se sei educato. Riesci a stupirti se qualcuno, insomma, ti ha insegnato anche proprio lo stupore. D'altronde, ripeto, io molte delle canzoni che ho scritto sono canzoni che narrano episodi della mia vita, episodi che mi hanno colpito, insomma. Grazie Stefano Del Testa, protagonista. Grazie a voi. Grazie a tutti.